Ancora bentrovati dalla rotazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dalla FIPILI per traffico, code in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Per le statali sulla Siena-Firenze, fino al 9 ottobre, per lavori, transito consentito a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata per circa 3 km tra Badesse e Siena Nord. Lo svincolo di Badesse resta temporaneamente chiuso verso Siena fino al termine dei lavori. Voltiamo pagina per il traffico aereo e voli Firenze-Barcellona delle 17.30 e delle 19.55. Sono al momento segnalati in partenza e in ritardo, entrambi alle 23.30. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, dal lunedì 1 ottobre e per un mese sono previsti i lavori per il riassetto della sosta nelle strade adecenti alla nuova linea T1 Leonardo. Con la riorganizzazione si andranno a recuperare 230 posti auto rispetto all'attuale assetto degli stalli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!